qual è la mia scelta in wwe per questo neo arrivato 2021 beh forse la mia scelta vi sorprenderà un pochettino e potrebbe essere anche impopolare visto i tanti lottatori emergenti e tecnici e talentuosi che si stanno facendo strada tra nxt smackdown e raw ebbene carta in tavola la mia scelta per il 2021 è homos ovvero il gigantesco lottatore di colore che sta accompagnando guidando proteggendo il miglior lottatore del mondo in questo momento aj styles sul ring insomma la sua polizza assicurativa e perché homos è la mia scelta per il 2021 beh semplice per diverse ragioni innanzitutto per una piccola ragione di cuore perché i giganti sono quelli che mi hanno fatto innamorare del wrestling quando ero piccolo 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 un piccolo scorpione in particolare the big show che è stato il mio lottatore preferito per cui mi piacerebbe vedere un gigante far bene soprattutto nell'era moderna del wrestling dove veri giganti non ci sono più e soprattutto la seconda ragione si collega a questa con un big show che sta avendo successo con netflix e ormai verso il pensionamento un king che è diventato un sindaco o era sindaco insomma si è dato alla politica e un brown stroman che è un lottatore gigantesco ma non un gigante come lo intendiamo noi beh in wb lo spot è assolutamente libero a meno che non arrivi così dal nulla out of nowhere un altro gigante ma sappiate che sono veramente difficili da trovare al mondo personaggi come come homos lui avrebbe uno spot intoccabile in wwe deve solo sapersi giocare bene le sue carte essere furbo e imparare i metodi della ww per non appunto bruciare il suo personaggio come hanno fatto altri lottatori giganteschi in ww magari nell'attitudine si vedevano lottatori anch'essi alti più di due metri che però ballavano indossavano cappellini buffi e quindi sono stati completamente rovinati big show è uno dei pochi che forse si è salvato e ha saputo adattarsi e diventare il secondo miglior gigante dopo andrea the giant quindi un peso non da poco e per questa ragione homos può far bene perché accompagna sul ring ma di ritorno è guidato e può imparare da aj styles come vi ho già detto il miglior lottatore del mondo e questa storia mi ricorda un po' quella di diesel e di sean michaels con la differenza che aj styles adesso è molto più esperto e più maturo di com'era sean michaels in quel tempo per questo homos il gigante di colore che adesso è in wwe per me è la scelta giusta per questo pesante 2021 2021